E' legato all'evento Una Nessuna Centomila in Arena, un progetto nazionale di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere, dedicato a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado. AXA Italia è main partner dell'evento, promosso dalla fondazione Una Nessuna Centomila, presieduta da Giulia Minoli, e a Verona, a Villa Brasavola de Massa, è stata presentata questa iniziativa, sostenuta appunto dal gruppo assicurativo. Qual è l'impegno di AXA Italia sul tema dell'empowerment al femminile? E' un impegno importante, all'interno della nostra strategia abbiamo un pilastro dedicato a questo, a quello che è la sostenibilità non di certo solo ambientale ma anche sociale e all'interno di questo c'è l'importanza dell'empowerment al femminile. L'azione che vogliamo agire con la fondazione Una Nessuna Centomila va esattamente in questa direzione, per agire concretamente giorno per giorno. Quanta strada c'è ancora da fare perché essere donna non sia più un rischio come purtroppo dimostrano tristemente tanti fatti di cronaca? Purtroppo tanta, in AXA agiamo ormai da anni su questo tema ma ritengo che le aziende private insieme al pubblico possano veramente sostenere le donne ed evitare che nel futuro possano proseguire questi episodi che purtroppo sono giornalieri. Al cuore del progetto dedicato a 20 istituti distribuiti in tutto il territorio nazionale una proposta incentrata sul ruolo dell'arte come linguaggio in grado di aprire una riflessione su tematiche collegate al concetto della violenza di genere compresi gli stereotipi esistenti e che possa stimolare il racconto emotivo, il pensiero critico e la gestione delle relazioni.